Il bar ieri cosa ci dice? Il bar ieri cosa ci dice? E' da andare ad analizzare una gamma. Il bar ieri cosa? Il bar ieri cosa? Il primo tempo è fettile, il tempo è fettile. C'è fuori giorno. Quando si vede luce, cioè fra l'attaccante e a diagolo, un bel momento. E sul rinnovo dei palladini invece? Il palladino è fettile. Vedeteci!